per realizzare il nostro tappino per la vite da 17 per prima cosa dobbiamo realizzare un esagono con la diagonale lunga 20 mm 2 cm allora abbiamo librecad ricordo che la versione per windows è identica quindi la stessa esercitazione la potete fare anche su windows usando la rotellina e tenendo premuto la rotellina trascinando posso spostare il centro degli assi a questo punto per disegnare l'esagono traccio la prima diagonale quella verticale di lunghezza 20 mm uso lo strumento linee linee verticali nella casella lunghezza digito 20 e il punto d'aggancio in posto medio a questo punto aggancia griglia e vado a tracciare la mia linea esattamente nel centro degli assi adesso esco torno indietro ingrandisco per ingrandire basta semplicemente girare la rotellina in avanti adesso ho solo due estremi dei miei angoli devo creare gli altri per creare le altre diagonali praticamente prendo questo segmento e lo copio ruotandolo di 60 gradi allora andiamo sul menu modifica comando ruota mi dice di selezionare l'oggetto che voglio ruotare clicco sul segmento posso fare continuazione pure premere invio adesso mi dice punto di riferimento che sarebbe il punto di rotazione che rimane sempre il centro degli assi a questo punto nella finestra opzione rotazione imposto coppie multiple metto due perché sono due le diagonali che devo disegnare e la rotazione devo impostarla a 60 a questo punto faccio ok e il programma in automatico come come vedete mi ha tracciato adesso tutte e tre le diagonali adesso praticamente devo tracciare delle linee che collegano gli angoli nel nostro esagono allora vado su aggancia end points vado su menu linee linea per due punti e collego gli estremi delle diagonali completando il mio esagono adesso ritorno indietro cancello selezionandolo con la candocci sopra premo il tasto canc e cancello le tre diagonali che sono servite per facciamo la costruzione del mio esagono terminato il nostro esagono lo salviamo facendo file salva con nome nella cartella documenti specifichiamo il tipo di xf 2000 e come nome mettiamo esagono 1 salva e chiudiamo il programma